Il Paradiso, trame al 29 marzo, Portegli si dichiara a Maria, Elvira vuole lasciare Tullio. Nelle puntate, che andranno in onda dal 25 al 29 marzo, Maria Irene rivela che i suoi sentimenti per Vito sono cambiati. Nelle puntate del Paradisi delle Signore, che andranno in onda dal 25 al 29 marzo, i giovani Elvira e Tullio attraversano un periodo di crisi, che porta la giovane a considerare la rottura con il fidanzato. Inoltre, Maria confessa a Irene che i suoi sentimenti per Vito sono cambiati, e al ricevimento del ritorno a casa di Silvana, Matteo rivela al giovane Puglisci che la ama. Alfredo alla fine si arrabbia perché Leonardo corteggia la sua ragazza Irene. Maria decide di tornare insieme a Vito, ma continuerà a pensare a Matteo. Maria viene convocata a Parigi da Defoe. Intanto il giovane Puglisci riceve un'importante convocazione da Defoe a Parigi per motivi professionali. Clara non è del tutto d'accordo con l'idea di Alfredo di riporre la sua attrezzatura sulle bici delle ragazze. Questo perché viola le regole della concorrenza. Nel frattempo, Marta e Vittorio dovranno incontrarsi spesso per annullare il loro matrimonio, e la giovane Guarnieri avrà difficoltà a reprimere i suoi sentimenti per gli uomini. Nel frattempo Roberto chiede a Rosa di scrivere un articolo sul mondo femminile per il mercatino Paradiso. La giovane Camili vuole intervistare Adelaide ed è fiduciosa di poterle dare il via libera. Nonostante tutto questo, Elvira prenderà seriamente in considerazione l'idea di lasciare Tulio, ma Salvo non crede più di poterla riconquistare. Adelaide accetta di intervistare Rosa, con l'evidente intenzione di mettere Rosa nei guai, ma la giovane riuscirà a tenere testa alla contessa. Umberto ha paura che Marcello scopra il suo piano. Nel frattempo Conti decide di non dire tutta la verità a Matilde sulla procedura di annullamento del matrimonio e si propone di presentarsi a casa di Marta. Inoltre, nonostante Maria sia piena di rimorsi, spiegherà a Vito cosa sta facendo dopo aver ascoltato a Parigi la proposta di matrimonio di Difo. Più tardi, la stilista rivela alla sua amica Irene che i suoi sentimenti nei confronti di Lamantia sono cambiati recentemente. Nel frattempo Marcello è pronto a firmare il contratto con Ofer e vuole andare in Germania per verificare la situazione. Umberto apprenderà la notizia e temerà che il suo piano venga scoperto. Nonostante tutto ciò continuano a sorgere diversi dissapori tra Alfredo e Leonardo, e Perico non tollera il corteggiamento che Crespi fa per Irene. Silvana dovrebbe tornare a Milano dopo l'intervento chirurgico negli Stati Uniti, così salvo Amato e il figlio Matteo stanno pensando di organizzare un ricevimento per lei. In questa occasione Portelli è sopraffatto dall'emozione e confessa il suo amore per Maria. Precedente, Matteo si scusa con Maria nella puntata andata in onda la settimana precedente, Matteo si è scusato con Maria per il bacio. Più tardi, quando il giovane Paglisi seppe che Vito aveva avuto un incidente, corse in ospedale, assicurandole che non avrebbe causato ulteriori problemi. Marta invece scopre di essere ancora legalmente sposata con Vittorio, Adelaide collabora con il vescovo per risolvere la questione, e alla fine Marcello dice a Rosa che non sta più con la contessa Adelaide e dichiara di non provare nulla. Grazie.